Buonasera a tutti carissimi amici e amiche delle pagine Facebook, della Regina della Pace, dell'Associazione del Sacro Corso di Gesù, delle mie pagine personali e di tutte le pagine che condivideranno questa diretta. Anche questa sera siamo qui per leggere, commentare e riflettere su questa straordinaria testimonianza di Gloria Polo, una testimonianza che lei non dà per sua diretta volontà, ma per volontà di Gesù, il quale le ha detto non dovrai ripetere questa testimonianza mille volte, ma mille volte mille, e noi adesso entriamo a far parte anche tra coloro che devono diffondere questa testimonianza perché è volontà del Signore. Ecco, lui dà queste esperienze straordinarie e ha fatto di Gloria Polo veramente un dono di misericordia non solo per se stessa, ma per la Chiesa e per l'intera umanità, perché come dice il ricco epulone nell'inferno, no, se uno tornasse dai morti gli crederanno. Gesù ha detto, anzi il povero Lazzaro ha detto, e Abramo, chiedo scusa, nel Vangelo ha detto, neanche se uno tornasse dai morti si convertirebbero. Quindi facciamo attenzione a non essere tra coloro che vedendo una che è tornata dai morti non ci convertiamo, perché veramente è un appello estremo della Divina Misericordia alla nostra umanità. Quindi vi chiedo di condividere questa diretta perché tutti i vostri amici possono ascoltarla e così come tanti di voi ormai mi testimoniano e possono avere dei grandi benefici per la loro conversione, per il loro cammino di fede, ma anche per la loro pace interiore, per la loro vita anche umana, perché ci sono grandi benefici quando si incomincia a fare un cammino autentico di fede. Saluto tutti voi che siete qui in diretta, siamo sempre in tanti, come sempre, Antonella Nedda, Chieli Chielita, Maria Verta, Domenica Cotuli, Monica Fabrizio, Elena Maria Sorella, Rosaria Scamardella, Nardi Sara, Roberto Norati, Anna Chiapparino, Maria Mariglioni, Cecilia Brillante, Dani Bielli, Anna Rita Spano, Maria Barbieri, Giovanna Chiapparino, Cecilia Brillante, Paola Epis, ecco quelli che avete già commentato, vi chiedo di non commentare più altrimenti togliete la possibilità agli altri di poter essere salutati perché poi non riesco a vedere, diciamo, i loro nomi. Flora Pepe, Alessia Gianfelice, Paola Epis, Anna Bisicchia, Maria Giuseppa Orto, Francesco Rossello, Anna Maria Petrocelli, Anna Onorato, Sabrina Mariani, Valera Baldari, Rebecca Gabriele, Rapisardi Cinzia, Rino Speranza, Quinci Francesca, Maria Bruna Feno, grazie a Teresa Moratore, Giuseppe Echiera, Maria Rosaria Di Flora, Grazia Boieri, Costanza Capomolla, Anna Maria Matera, Maura Bonazzinga, Anna Sarnataro, Giuseppe Fuscelli, Carmen Costanzo, Rosa Lamacchia, Beatrice Corda, Salvo Randazzo, Onofrio 62, Salvatore Assunta, Roberto Di Costanzo, Francisca Ester Mariano, Filippo Bronti, Pina Nicoletta, Stefi Ponzoni, Ines Torino, Maria Pepitone. Bene, e tutti gli altri che siete in diretta. Allora andiamo come ogni sera, prima di iniziare la lettura e il commento, ad ascoltare dalla la viva voce di Gloria Polo, la sua testimonianza. Gesù Cristo, abbi compassione di me. Signore, 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 dammi una seconda opportunità. Dammi una seconda opportunità. E questo è stato il momento più bello. Perché lui scese con questa luce, mi tirò fuori da questo buco e mi disse con tanto amore. tornerai, avrai la tua seconda opportunità. Però questo grazie alla preghiera di tutte le persone che sono estranee al tuo sangue. e io vidi il grande potere della preghiera di intercessione. Nel mio paese, moltissime persone pregarono per me quando videro la mia notizia sui giornali. e la Vergine Maria raccolse tutte queste preghiere della nazione colombiana nella mano sinistra e nella mano destra la madre raccolse tutte le preghiere di tutti i santi nella chiesa di Santa Teresina del bambino Gesù nel momento dell'elevazione questo momento è santo, santo è un peccato che non riesco a parlarvi dell'eucaristia perché è la cosa più grande, più santa nel momento dell'elevazione addirittura anche il diavolo si deve prostrare la Vergine offrì tutte queste preghiere per me e per questo che io sono qui però la persona che più brillava nella mano della Vergine era un campesino molto povero al nord del mio paese ti converta Signore che il mondo ti ami che il mondo torni a te questo contadino muoveva il cielo con le sue preghiere Gesù lo guardava così con molto amore quando questo contadino uscì dall'eucaristia la sua anima brillava come un sole comprò con una piccola quantità di soldi che aveva un po' di dolce e del sale non aveva nient'altro lui moriva di fame e questa pannella questo tipo di dolce l'avvolsero in un giornale un mezzo foglio di giornale lì c'era proprio la foto di me che ero ustionata quando lui lesse la notizia cadde piangendo al suolo e con il suo cuore gridò Padre Signore Abbi compassione di questa mia sorellina Signore salvala salvala Signore se tu la salvi se tu salvi questa mia sorellina io ti prometto che me ne vado al santuario di Buda e lì io faccio un voto compio una promessa però salva però ti prego salva questa mia sorellina e disse questo è amore questo è amore per il prossimo questo è amore ed è lì il momento in cui lui mi affida la missione lui mi ha detto questo non lo ripeterai mille volte ma mille mille volte mille quello che non vuole vedere questa non è una minaccia questo è un Gesù innamorato che sta davanti a voi fratelli sta con le braccia aperte e lui ci si vuole rivelare a noi ci vuole liberare ci vuole guarire il peccato ci rende ammalati ci toglie l'allegria lui ci vuole abbracciare il Signore Gesù vuole che noi apriamo i cuori e diciamo a lui benvenuto Gesù la Vergine Maria ha fatto questa festa qui perché lei vuole darci il regalo più grande e il regalo più grande è la conversione e che veramente possiamo aprire i cuori e che ci lasciamo trasformare dall'amore di Dio il mondo muore ha chiuso il cuore a Dio e la Vergine vuole incendiare i vostri cuori perché voi possiate andare ad incendiare l'Europa grazie all'amore di Dio Dio vi benedica grazie 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 Dio, è sincero il mio amore, io voglio che voi e Dio ci convertiamo e un giorno possiamo abbracciarci in cielo, Dio ci benedica, ecco carissimi abbiamo ascoltato la parte finale della testimonianza di Gloria Polo veramente molto toccante, vediamo che quando parla qua parla veramente con tutta l'intensità del suo cuore perché ha fatto un'esperienza straordinaria, lei ama veramente l'umanità perché gira tutto il mondo, assolutamente non prende soldi, l'unica cosa è le spese vive del viaggio e dell'hotel, alcune volte neanche dell'hotel dov'è che viene ospitata per dare la sua testimonianza, quindi possiamo accogliere con molta serenità ma anche con molta responsabilità questa testimonianza e poi sforzarci a nostra volta di essere noi stessi testimoni di quello che abbiamo ascoltato ma poi come vedremo e come vediamo continuamente in tutte le catechesi non è altro che un Vangelo esistenziale, l'ho definito io, cioè un Vangelo vissuto non soltanto nell'aspetto umano ma anche nell'aspetto divino, non soltanto nell'aspetto terreno ma in quello celeste. Bene, andiamo adesso a leggere il nostro testo. La bambina obesa La visione del libro della vita continuava mostrandomi quanto fossi orgogliosa di appartenere alla compagnia delle vive e di non essere più quella che tutti evitavano al collegio. Le ragazzine dell'istituto però avevano bisogno di continuare a prendere in giro qualcuno e allora ritornarono a prendere di mira quella di cui si erano sempre bullate, una povera bambina obesa. Anch'io naturalmente le davo dei soprannomi offensivi, non perché mi piacesse farlo ma perché volevo fare bella figura con le mie amiche. Ecco vedete come il cattivo esempio, come dice l'Apostolo Paolo, corrompe i buoni costumi. E l'altro proverbio molto conosciuto, dimmi con chi pratichi e ti dirò chi sei. E ancora che va con lo zoppo, dopo un anno zoppica anche lui. E così Gloria che era una ragazza tanto pura, tanto di fede, tanto buona, che pensava anche ai poveri e faceva sacrifici persino. Una volta come abbiamo visto si è tolta le scarpe costosissime che il padre le aveva comprato e le ha date a un povero. Ecco allora, adesso questa bambina non c'è più, c'è un'altra bambina perché il suo cuore è cambiato ed è diventata una bambina che fa bullismo nei riguardi di un'altra bambina obesa. Non perché dice mi piacesse farlo ma perché volevo fare bella figura con le amiche. Vedete quanto ci coinvolge il rispetto umano, no? Cioè volerci sentire apprezzati dagli altri nelle cose cattive anche. Invece noi dobbiamo avere un metro di misura per le nostre azioni e questo metro è la volontà di Dio. Così Gesù diceva mio cibo è fare la volontà del padre mio. E tante volte io vi ho detto, adesso vi ripeto ancora una volta, quando dobbiamo fare una qualunque cosa, prendiamo come metro di misura questo modello. Gesù l'avrebbe fatto? Maria l'avrebbe fatto? Se Gesù e Maria non avrebbero fatto quella cosa neanche noi la dobbiamo fare. Se invece loro l'avrebbero fatta anche noi la dobbiamo fare. Quindi questo è molto semplice però ci aiuta a capire se possiamo fare una cosa o non farla, se è giusto farla o se è sbagliato farla. Una cosa che vi raccomando, che tutte le vostre pagine Facebook siano veramente delle pagine di persone di fede. Non mettete cose volgari, offese, insulti che spesso si vedono nelle pagine Facebook o peggio ancora immagini pornografiche, immagini sporche, barzellette oscene, tutte cose che a un cristiano non devono appartenere. Perché dice Gesù la bocca parla della pienezza del cuore e noi potremmo dire che ormai Facebook è diventata la nostra bocca, no? Attraverso Facebook noi manifestiamo quello che abbiamo nel cuore, allora purifichiamo il nostro cuore e se abbiamo delle cose che non vanno bene nelle nostre pagine purifichiamole, togliamo tutte le cose che non sono nello stile di noi cristiani cattolici. Comunque, continua Gloria, qualunque fosse stata l'intenzione del mio comportamento, da vittima divenni carnefice. Ecco come cambiano i ruoli, da vittima divenni carnefice. Lei che prima ha sofferto tanto per il male che le hanno fatto quelle ragazze, adesso lei stessa lo fa agli altri. Invece il Signore nel Vangelo ci dice l'esatto contrario, non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te. Questa è anche una regola d'oro così come la definisce il Vangelo. Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te e potremmo dire anche in qualche modo il contrario, fai agli altri ciò che vuoi sia fatto a te e noi per noi stessi chiaramente desideriamo sempre il bene, come vogliamo ricevere noi il bene, dobbiamo fare del bene agli altri. E se noi abbiamo ricevuto del male, siamo autorizzati a fare del male agli altri? Assolutamente no, perché noi quel male non vorremmo riceverlo, altrimenti se noi facciamo del male giustifichiamo coloro che ci hanno fatto del male, come se il male fosse un bene. Allora c'è come un cane che si morde la coda e da questo circo vizioso non se ne esce più e il male si moltiplica sempre più nel mondo. Invece c'è un unico modo per spezzare questo circolo vizioso del male ed è quello di vincere il male con il bene, così come ha fatto Gesù, vincere l'odio con l'amore, la violenza con la pace, il male con il bene e il peccato con la grazia. Comunque, diceva Gloria, qualunque fosse stata l'intenzione del mio comportamento da vittima di venni carnefice. Ecco la porcella, le dicevamo, ecco l'elefante e imitavamo il suo incedere goffo. Il Signore mi mostrò che le nostre burle fecero sì che questa bambina si riempisse sempre più di complessi per la sua obesità e si sentisse schifosa fino al punto di divenire ossessionata dal suo aspetto esteriore e passare il suo tempo guardandosi allo specchio e truccandosi. Capite come si feriscono le persone? Io ricordo anche qualche episodio nelle mie parrocchie di qualche ragazza che ha avuto più o meno lo stesso problema, non così pesante, però questa ragazza ha incominciato a cadere nell'anoressia a causa di alcuni nomignoli che gli essi davano perché era un po' paffutella, ma non assolutamente grassa. Eppure si era messa in testa che era grassa perché queste ragazze poi guardandosi allo specchio si vedono come se fossero enormi e quindi poi che cosa fanno? Cadono nell'anoressia, cioè incominciano a rifiutare il cibo, ma quel rifiuto del cibo in qualche modo manifesta il rifiuto di se stessi e della propria vita. E voi sapete benissimo che diverse ragazze muoiono a causa dell'anoressia oppure della bulimia. Ecco quindi non bisogna mai mettere in risalto un difetto fisico di un'altra persona perché non è un peccato né un male che quella persona ha compiuto, ma è semplicemente un dato che lui si trova nel proprio corpo, anche nei propri atteggiamenti, in quello che egli è a causa di ferite, a causa di malattie, a causa di un'altra situazione. Ecco bisogna accogliere l'altro così com'è. Poi chiaramente se c'è qualcosa che si può migliorare nell'altra persona si cerca di aiutarla con carità a migliorarla, ma non assolutamente sbeffeggiando l'altro, ferendo l'altro con parole appuntite, con parole malvagie, con parole di schermo. La voce meravigliosa mi mostrò inoltre come questa bambina iniziò a odiarci e a odiarsi per la sua obesità. Più si guardava e più si odiava. Vedi ancora come al culmine della sua disperazione ingurgitò una bottiglia di odio per dimagrire. Le conseguenze, come era naturale, furono molto gravi. Divenne quasi cieca e abbandonò gli studi. Capite? Gli scherni cosa possono combinare? E non solo questo, ma sappiamo che alcuni ragazzi, alcuni giovani, si suicidano a causa degli scherni che ricevono da parte degli altri e anche attraverso Facebook. Diversi ragazzi e ragazze che sono stati presi in giro o magari hanno avuto delle foto pubblicate che erano un po' imbarazzanti, sono giunti al suicidio. Che grande potere ha la parola, fratelli miei. E mi viene in mente qui la frase che dice sempre Sor Cornelia di Meggiugorie, una bravissima suora che è una casa di accoglienza per i bambini di famiglie ferite. Nella sua catechesi Sor Cornelia dice la lingua non ha le ossa ma spezza le ossa. E tante volte i nostri giudizi si basano soltanto sull'apparenza. Si giudicano le persone senza sapere esattamente le situazioni. E alcune volte magari si giudica una persona come se avesse compiuto chissà quale male, mentre quella persona non ha fatto nessun male e quindi a causa di quei giudizi, di quelle calunnie, si possono referire profondamente a quelle persone e alcuni, come abbiamo visto, se sono un po' deboli, come sono deboli i giovani, potrebbero giungere anche al suicidio. La nostra compagnia aveva dunque messo in atto una pericolosissima catena di odio. La bambina, infatti risentita e privata dell'amore, distrusse a sua volta altre persone, che a loro volta fecero lo stesso con le altre persone che incontravano lungo il loro cammino. Come mi fai del male? Allora quella frustrazione del male io la sfogo su un'altra persona, poi quell'altra la sfogo su un'altra e alla fine magari ci possono essere delle conseguenze disastrose. Invece come ci insegna Gesù, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi fanno del male, pregate per i vostri persecutori e sarete figli del Padre vostro celeste, il quale fa piovere sui giusti e sugli ingiusti e far risplendere il sole sui buoni e sui cattivi. Cioè Dio dà la sua misericordia, la sua bontà a tutti, finché dura chiaramente questa vita. Poi alla fine c'è il giudizio, ma fino a quando siamo in questo mondo Dio tenta il tutto per tutto pur di salvarci. E anche noi dobbiamo fare lo stesso, così come dice l'Apostolo Paolo, mi sono fatto tutto a tutti per guadagnare ad ogni costo qualcuno a Cristo e dunque alla salvezza. Quindi cercare di farsi tutto a tutti non vuol dire chiaramente scendere a compromessi, perché alcuni lo considerano così. No, non bisogna scendere a compromessi con il male, bisogna però cercare tutte le strade per giungere al cuore di quella persona. Se poi uno trova proprio un cuore di pietra, come è stato il cuore del Faraone, a quel punto poi il giudizio lo rimettiamo nelle mani di Dio e noi siamo con la coscienza tranquilla e in pace perché abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. La nostra compagnia aveva dunque messo in atto una pericolosissima catena di odio. La bambina infatti risentita e privata dell'amore distrusse a sua volta altre persone che a loro volta fecero lo stesso con le altre persone che incontravano lungo il loro cammino. Davanti a Dio, io e le mie amiche, continua Gloria, fummo colpevoli dell'assassinio dell'anima di questa bambina. Che terribile questo, fratelli e sorelle, cioè l'assassinio dell'anima di quella bambina, non del corpo ma dell'anima. Veramente la lingua, e ne uccide più la lingua, dice un altro proverbio, che la spada. La lingua veramente può uccidere. Però attenti che Gesù dice anche un altro proverbio, chi di spada ferisce, di spada perisce. Quindi bisogna fare attenzione, perché chi semina calunnie, prima o poi le riceverà. Bisogna essere sempre prudenti nei giudizi che esprimiamo, perché chiaramente potremmo poi noi stessi essere oggetto di quei giudizi malvagi. Tutte noi avevamo la nostra responsabilità e il nostro era un peccato comunitario, fu giudicata perché pur potendo difenderla, omissi di farlo. Bene, adesso voglio leggere qualcuno dei vostri commenti, così attualizziamo la catechesi. Ci sono moltissimi commenti, sto cercando di iniziare da... ecco. Silvano Marsiglia dice Oggi ho testimoniato questa meravigliosa testimonianza. La mia amica ne ha dette di tutti i colori. Dice che lei non ha mai ucciso nessuno. Intanto maledice chi gli ha fatto del male. Dio mio come cieca. E purtroppo sì, carissima Silvana, ci sono tanti che ci mettono ad aprire il cuore. Comunque preghi per questa sua amica affinché si possa aprire e possa capire che il Vangelo non è quello che ci facciamo a nostra immagine e somiglianza, ma che dobbiamo essere noi a farci a immagine e somiglianza del Vangelo. Annalita Spano dice Don Piero Più testimonio, più sono sola. Ho quasi tutti contro. Tante volte crollo. Gesù è la mia forza. Carissima Annalita, non è sola perché noi qui, come vede, siamo in tanti e la pensiamo tutti allo stesso modo e sembra che il numero, grazie a Dio, rimane stabile, anzi, incomincia anche a crescere un pochettino. Quindi, non è sola Annalita. Dio ha i suoi dappertutto, quelli che lo amano ci sono un po' dappertutto, però magari non sono concentrati in un posto perché mette tanti semini di qua e di là finché poi quei semini possono portare un grande frutto con quelli che sono intorno. Quindi lei continua a seminare e non si preoccupi che poi Dio qualcosa farà crescere. Patrizia Ragone dice Io avevo un amico gay che tutti lo prendevano in giro ero quasi l'unica che lo voleva bene con tutto il cuore ma poi iniziarono a isolarmi perché io ci parlavo e gli altri dicevano che schifo frequenta pure i gay così ero stata malissimo. I gay, ecco, è già questo fatto, no? Di dire gay è un bollino che si mette addosso alla persona anche loro stessi, le persone che hanno questa problematica affettiva, no? E di identità si mettono addosso a un marchio che non va bene noi non siamo con dei bollini particolari noi siamo esseri umani fatti a immagini e somiglianze di Dio e se siamo battezzati siamo figli di Dio quindi quella è una persona che ha una problematica affettiva che indubbiamente va trattata come qualunque altra persona con dignità, con rispetto chiaramente se invece c'è un peccato che la Bibbia condanna chiaramente ed è quello della omo non omosessualità omerotismo ecco questa è la parola giusta che indica sempre la dottoressa De Mari perché l'omosessualità non esiste la sessualità ci può essere soltanto tra un uomo e una donna perché la sessualità è il modo di una generazione di andare avanti di procreare quindi all'interno del rapporto tra due uomini e tra due donne non c'è sessualità ci può essere erotismo dunque omerotismo che vuol dire attrazione sessuale nei riguardi della persona dello stesso sesso ecco quindi omerotismo allora una persona che ha questa problematica in sé come persona va rispettata in quanto ha una dignità inalienabile e anche se è peccatore anche il peccatore va rispettato quello che noi invece dobbiamo giudicare condannare è il peccato quello sì il peccato bisogna giudicarlo con chiarezza e condannarlo con chiarezza per il bene della persona non per distruggere la persona per dire alla persona guarda che questo tipo di peccato probabilmente ti potrebbe anche dannare l'anima perché è un peccato mortale Francesco Cavalluzzi Pimpo dice da piccolo mi picchiavano e mi prendevano in giro perché ero meridionale al nord ma grazie a Dio non sono diverso diventato così come loro adesso cammino a testa alta con Gesù non vi batte nessuno sì purtroppo c'era questo fatto della discriminazione tra nord e sud e tra colti e ignoranti e così via noi siamo tutti figli di Dio tant'è che noi vediamo come ho detto da diverse volte che la Madonna sceglie spesso persone povere piccole ignoranti alcune volte anche un po' lente con la mente come ad esempio era Bernadette eppure quale grande santa è diventata Bernadette quindi i giudizi di Dio sono molto diversi dai nostri giudizi noi dobbiamo sforzarci di trattare tutti con la nostra stessa dignità con la dignità che Dio ha dato ad ogni essere umano e in modo particolare ad ogni figlio di Dio che ha ricevuto il battesimo ecco come richiama un passo del Vangelo Maura buona zinga dovremmo rendere conto a Dio per ogni parola che esce dalla nostra bocca proprio così carissima Maura questo lo ha detto Gesù Carmelo Valente dice per non avere risentimento risentimento contro le persone che mi hanno fatto del male io l'ho superato pregando per loro ecco questa è la prima cosa tant'è che Gesù ce lo indica come una opera di misericordia spirituale pregare per coloro che ci perseguitano Angelica Saputo dice io capisco il bullismo ero chiamata secchiona e le amiche da piccola mi isolavano mi ridevano in faccia quando volevano i compiti e le aiutavo poi per uscire uscivano e non mi chiamavano mai cicilia brillante dice di essere stata la sua cornea e che è stato un posto bellissimo sì veramente un bel luogo dove si vive la fraternità universale che Gesù ha insegnato in modo particolare la solidarietà e la carità verso i bambini delle famiglie ferite Barbara Mazzilli dice padre Pietro quando l'ascolto con il Vangelo mi dà tanta pace e forza e mi illumina la strada un percorso nella pace e nell'accettazione di ciò che non si può cambiare Nardi Sara dice che orribile male produce il cattivo parlare a noi stessi e agli altri mio Dio illuminaci a dire sì sì no no il di più viene dal maligno Maria Berta dice Don Pietro che il fatto di non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te ma Dio ha detto anche fai ciò che ti è stato fatto che non hai mai peccato mi dispiace carissima Maria no non l'ha detto proprio Dio questo è un proverbio popolare fai ciò che ti è stato fatto che non è mai peccato e lei niente meno lo cita come se l'avesse detto il Vangelo o Dio non è assolutamente vero questo quindi le raccomando carissima Maria non mette in pratica questo e non lo citi come parola di Dio perché questo è un pensiero completamente umano noi dobbiamo fare l'esatto contrario del male che ci viene fatto se qualcuno ci fa del male se noi siamo nella possibilità dobbiamo fargli del bene in questo modo si vince il male e si cambia il mondo il mondo non può essere cambiato dall'odio dalla violenza dalla menzogna il l'odio va cambiato con la verità con l'amore con la pace non c'è altro modo come dice l'Apostolo Paolo vinci il male con il bene Maria Barbieri Maria Barbieri dice Don proprio un fatto che mi è accaduto ieri ieri mi son sentita da subito una nullità però non ce la facevo proprio ero in giro per Milano e ci fermammo in un bar a bere un caffè io aspettavo fuori e si avvicinò un senza tetto era su una sedia a rotelle con entrambe le gambe fasciate mi chiedeva aiuto a girare il poggiapiede non sono riuscita ad avvicinarmi perché era troppo malodorante facevo finta di niente ma dentro di me stavo male e chiedevo scusa al Signore per il mio comportamento e si ha fatto molto male quindi diciamo che questa è una confessione carissima Maria doveva correre subito ad aiutare quella persona in difficoltà anche se era maleodorante non pensate che noi quando saremo nella bara saremo più profumati di quella persona lì Maria Parascandolo dice anch'io sono stata bullizzata da piccola ma non ho mai ricambiato allo stesso modo brava carissima Maria mai fare agli altri il male che noi abbiamo ricevuto dobbiamo invece imparare da quella esperienza e dire io non sarò mai così voglio essere diverso da quello che ha fatto questa persona da come si è comportato Rossi Fulvo dice con la grazia e la guida di Gesù sono riuscita a coinvolgere i miei figli ad ascoltare le catechesi le vie del Signore sono infinite bene sono contentissimo carissima Rossi ci siamo sentiti oggi è una bella notizia questo mi fa piacere sicuramente li aiuterà daniela daniela dolci dice vero si uccide anche con la bocca con calunnie e menzogne spero che si ravvedano queste persone false angelica angelica saputo che mi hanno tradito che mi hanno tradito e fanno pratiche esoteriche che Dio possa aiutare le loro piccole menti e si perché l'esoterismo li mette sotto le inside e il potere del maligno bene adesso continuiamo a leggere ci sono tanti i vostri commenti ma non mi posso fermare tanto perché altrimenti non andiamo più avanti sono già le 22.50 adesso c'è un brano un po' particolare ascoltiamolo anche se tutta la testimonianza di Gloria Polo è veramente straordinaria volete che metto meglio il testo oppure la foto ditemi voi se vi piace più poter leggere anche voi quello che leggo anch'io oppure se vi va di guardare un'immagine di Gloria Polo ecco aspetti i vostri commenti così in caso mi regolo diversamente il giovane sacerdote del collegio ormai morte spiritualmente a noi compagni della comitiva ovviamente non piaceva partecipare alla messa quando a celebrare era un anziano sacerdote in questi momenti eravamo infatti sempre distratte e giocavamo ma quando l'anziano sacerdote fu sostituito da un giovane prete allora sì che vi prendevamo parte volentieri quanto è bello che figo dicevamo eravamo tutte innamorate di lui e decise a conquistarlo io e le mie amiche mentre programmavamo il piano di azione ci dicevamo vediamo chi di noi lo conquista pensate un po' noi poveri preti almeno chi è oggetto di queste cose che cosa devono passare no? perché alcune volte veramente bisogna essere molto prudenti perché il dono del celibato va custodito gelosamente perché Satana è furioso contro questo dono che ci rende simili a Cristo il quale era celibe puro e casto sapete cosa scogitammo e attuammo? ci mettevamo in fila nella processione di comunione naturalmente senza esserci confessate pensate voi anche il sacrilegio della Santa comunione subito dopo le sole del collegio e ci inginocchiavamo pure nel momento della comunione non lo facevamo certamente per devozione bensì per una ben precisa strategia seduttiva ci sbottonavamo la camicetta perché volevamo vedere con chi di noi al giovane prete avrebbe tremato di più la mano e chi riusciva nell'intento sarebbe stata quella che aveva il seno migliore cose folli no? cioè guarda per questo vi dicevo la volta scorsa in chiesa si viene vestiti in modo decente in modo dignitoso non con delle scollature non con degli abiti attellati non con la minigonna non con la schiena scoperta specialmente d'estate poi se ne vede di tutti i colori in chiesa si viene vestiti dignitosamente e decentemente invece spesso si vedono delle indecenze pensate cosa ci aveva condotto ad essere il nostro cammino di scoperta della vita irrispettose beffarde mene freghiste e illuse che tutto questo fosse solo un gioco innocente e non un essere completamente utilizzate da satana ecco quelle ragazze venivano utilizzate da satana per tentare di sedurre quel giovane prete e purtroppo ogni tanto accade qualche scandalo di qualche sacerdote che cade in questi tipi di peccati perché ci sono donne che li seducono e purtroppo satana questa è una delle tentazioni che attua contro i sacerdoti di tentare di sedurli per farli cadere nel peccato di impurità e poi magari di rinunciare al ministero sacerdotale e mi viene in mente l'episodio di un parroco che ha detto pubblicamente dal lambone che lui aveva messo incinta una donna e che lasciava il ministero sacerdotale per andare a vivere con questa donna e tutta la comunità si è messa ad applaudire questo è qualcosa di assurdo cioè un sacerdote che lascia il sacerdozio è una catastrofe è un peccato grave rinuncia a un dono immenso che Dio gli ha fatto per andare a stare con una donna con tutto il rispetto per voi donne ma Gesù Dio la Chiesa il Paradiso vale infinitamente di più di una qualunque donna della più bella fra tutte le donne un sacerdote che cade in questo peccato vuol dire che non ha assaporato fino in fondo la bellezza di Dio e dunque non ha custodito gelosamente il suo cuore perché quando il cuore incomincia a tremare per una donna il sacerdote dovrebbe subito correre ai ripari perché è anche un uomo chiaramente con dei sentimenti umani anzi se non fosse pienamente uomo non potrebbe neanche essere consacrato come sacerdote questa è una delle norme che ci sono nella Chiesa e allora il sacerdote deve mantenere il suo cuore consacrato completamente al cuore di Cristo e al cuore immacolato di Maria pregare incessantemente chiaramente vivere profondamente i sacramenti che celebra e in questo modo sicuramente preservato da tante tentazioni se poi c'è qualche tentazione fuggire quella tentazione questo è quello il consiglio che danno tutti i padri della Chiesa tutti i grandi autori di spiritualità ecco questo sacerdote veniva tentato direttamente bruttamente da queste ragazze che andavano lì si slacciavano la camicetta proprio per vedere chi riusciva a fargli tremare la mano ma chi lo sa forse a farlo cadere in qualche peccato ancora più grave questo è un peccato gravissimo che fa cadere un sacerdote sicuramente riceverà una punizione durissima in purgatorio se si salva se non direttamente all'inferno perché tentare un consacrato di Dio è veramente un sacrilegio non è solo un peccato ma è un sacrilegio perché un ministro di Dio il sacerdote è consacrato completamente a Dio e quindi distoglierlo dal suo compito è un vero e proprio sacrilegio rividi che le nostre miserie però non terminarono qui come titolo l'aborto di Estela a 13 anni si ha la presunzione di credersi il padrone del mondo e ci si sente in diritto di maltrattare chiunque possa ostacolare anche involontariamente il proprio cammino ecco tanti di voi mi dicono che volete il testo quindi mantengo il testo a 13 anni dunque si ha la presunzione di credere che chi ci parla di Dio sia un matto che non ha diritto di essere felice proprio per questo rifiuto della vera sapienza la mia amica Estela rimase incinta mi confidò che aveva un ritardo nonostante avesse utilizzato la pillola contraccettiva e che non sapeva che fosse il giovane che l'avesse ingravidata mi disse anche che nell'incertezza si sentì costretta a dire che era stato il suo fidanzato alle vacanze scolastiche di giugno Estela era già al quinto mese di gravidanza e purtroppo capite quando una ragazza è troppo sbarazzina alla fine neanche sa di chi è il figlio che porta nel grembo oggi magari c'è la possibilità di fare il test del DNA l'esame del DNA e sapere esattamente chi è il padre ma nel passato queste cose non si facevano ed erano costosissime quindi non erano alla portata di tanti ragazzi e allora tanti ragazzi non hanno riconosciuto i bambini generati nel grembo di quella ragazza che magari hanno avuto anche loro e sono rimaste alcune ragazze delle ragazze madri a causa di questo e il figlio non riconosciuto dal padre questo è veramente molto triste principalmente per il bambino che crescerà senza il padre e poi anche per la mamma che chiaramente non avrà una famiglia anche se oggi diciamo essendoci una mentalità più aperta anche le ragazze madri possono pensare a rifarsi una vita se lo vogliono alle vacanze scolastiche di giugno Estela era già al quinto mese di gravidanza e siccome la sua mamma la portava in vacanza io non la incontrai fino alla ripresa delle lezioni scolastiche a luglio e quando la rividi era senza pancia era un cadavere ambulante e non era più quella matta indisciplinata che si divertiva con tutto i suoi occhi erano morti era triste 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 e come si può essere gioiosi se si è ucciso il proprio bambino per quanto una persona possa diciamo negare che quello che porta in grembo è suo figlio l'anima glielo dice questo che porta in grembo è tuo figlio tu sei l'assassina di tuo figlio e lei che era una così spigliata così orgogliosa così superba era diventata triste 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 e aveva la morte negli occhi e nel corpo non voleva raccontarmi nulla prima di avermi portato a casa sua qui si abbassò la gonna e mi mostrò una ferita a u sull'addome dicendomi mia mamma si infuriò così tanto ma così tanto quando seppe del mio interesse del mio stato interessante che mi prese di forza e mi spinse in macchina per portarmi dal ginecologo chiedimi la cifra che vuoi disse mia mamma al ginecologo ma fammi il favore di operarla mi aprì poi il suo armadio al suo interno vidi una grossa ampolla di vetro chiusa da un tappo rosso e all'interno mai mi dimenticherò questa immagine sommerso in un liquido un bebè completamente formato e sopra il tappo dell'ampolla la scatola delle pillole anticoncezionali orribile cioè aveva conservato il suo bambino sotto spirito e sopra le pillole anticoncezionali per ricordarsi che non deve più rimanere incinta che immagine traumatica per una bambina di 13 anni pensate voi una bimba di 13 anni che ha conservato in un vaso il suo bambino terribile guardate come il peccato ha il potere di ottenebrare la mente di una mamma al punto di farle credere che il crimine dell'aborto sia la soluzione a una gravidanza indesiderata di sua figlia e di farle conservare in quel modo il feto abortito insieme alle pillole anticoncezionali perché la figlia mai più dimenticasse di prendere l'anticoncezionale quindi non che la figlia non avesse rapporti con ragazzi o con uomini ma che non prendesse l'anticoncezionale pensate voi che razza di modalità che aveva la mamma di questa estela e purtroppo bisogna dire che oggi di mamme di estela ce ne sono tantissime si sono moltiplicate e non solo di mamme di estela ma anche di papà di estela la testimonianza che ho sentito una volta da un padre che sapeva che la figlia aveva delle esperienze mi ha detto deve fare anche lei le sue esperienze e io sono rimasto a bocca aperta pensavo che il padre almeno si in qualche modo avesse un po' di orgoglio dice come mia figlia no non ha reagito per nulla e mi ha detto deve fare anche lei le sue esperienze questa è la situazione in cui noi ci troviamo ed era un padre cattolico che anche veniva ammessa che Dio abbia pietà di questa generazione che ormai vive nella totale cecità e stela mi disse che l'operazione dell'aborto non le aveva causato dolore e che non si sentiva triste al contrario si sentiva liberata da un problema ma tutto ciò era una menzogna la mia amica era molto risentita e non tornò mai più quella di una volta anzi entrò in una forte depressione vi ho raccontato già l'episodio di quella donna che volle assolutamente abortire quando non c'era nessun motivo e dopo che abortì uscendo dalla sala operatoria si mise a gridare come una folle ho ucciso mio figlio ho ucciso mio figlio e l'infermiera gli ha dovuto tappare la bocca con la mano perché tutto l'ospedale era riempito dalle sue grida e dopodiché cadde in una forte depressione e il marito incominciò a subire ossessioni di suicidio e di omicidio una cosa molto grave perché attraverso l'aborto ci può essere anche una possessione diabolica quest'uomo invece soffriva di ossessione diabolica e dopo che aveva fatto delle preghiere per lui è stato immediatamente liberato quindi capite l'aborto è veramente un dramma per la donna per l'uomo e principalmente per il bambino che viene ucciso e poi anche tante volte per le famiglie perché ci sono mamme anche che non vogliono che la figlia faccia questo e magari la figlia che ormai maggiorenne lo vuole fare per forza che dramma veramente questo dell'aborto è un abominevole delitto che è entrato ormai nello stile della gran parte dei popoli di Europa e che ci sta portando all'autodistruzione bene voglio leggere adesso qualche vostro commento così dopo facciamo la preghiera la prossima volta andremo avanti da quest'altro titoletto la droga Adriana Costa dice e i preti pedofili chi li provoca? i preti pedofili come diceva qualcuno non sono preti pedofili ma probabilmente sono dei pedofili che sono diventati preti cioè delle persone con delle problematiche molto forti che poi purtroppo hanno trovato queste scamotaggi e sono riusciti ad entrare nel clero quindi anche tante volte fingendo la vocazione e chiaramente non avendo poi la grazia di stato non sono stati capaci neanche di resistere a quelle tentazioni così gravi della pedofilia ma grazie a Dio la Chiesa sta prendendo forti provvedimenti e sappiamo che sono veramente una piccolissima parte rispetto alle percentuali che invece ci sono in altre categorie di persone come ad esempio gli psicologi i medici gli insegnanti sappiamo no? quindi in tutte le categorie di persone purtroppo c'è questo anche voi sapete dov'è che subiscono le maggiori violenze sessuali? sicuramente non lo sapete ve lo dico io in famiglia tante volte proprio lì nella famiglia dove dovrebbe essere il nido della protezione i bambini subiscono violenze sessuali quindi è proprio una depravazione che tocca tutti gli ambiti della società e purtroppo tocca anche l'ambito sacerdotale che è un qualcosa di abominevole proprio da riprovare in tutti i modi però non si può assolutamente per pochissime persone perché sono veramente una piccolissima parte andare a criminalizzare tutti i sacerdoti così come fanno i mass media quando purtroppo c'è un caso del genere lo fanno risonare a livello internazionale se non mondiale Patrizia Aragone dice un sacerdote è unto dal Signore e il demonio fa di tutto per farlo cadere infatti proprio così carissima Patrizia perché come dice anche Gloria Polo Satana ce la mette tutta per tentare di far cadere un sacerdote e diversi sacerdoti cadono a causa degli aborti l'avete sentito nella testimonianza cadono a causa degli aborti cioè gli aborti danno un potere così grande a Satana il quale riesce con quel potere che gli viene dato da questo sacrificio l'immolazione di un bambino a lui a far cadere un sacerdote Caterina Pietro dice al sacerdote bisogna baciare la mano così come ho visto fare ai miei genitori e continuo a farlo nel rispetto della presenza di Gesù in ognuno di loro bravissima carissima Caterina anche perché c'è l'indulgenza nel bacio della mano del sacerdote quindi chi bacia con devozione e riverenza sia la mano del vescovo chiaramente prima il vescovo sia la mano del sacerdote riceve un'indulgenza perché non è la riverenza nei riguardi del sacerdote ma nei riguardi di Cristo che vive nel sacerdote e più viene onorato il sacerdote più la comunità viene onorata dal sacerdote invece tante volte la comunità che perde la stima del sacerdote neanche il sacerdote può dare onore a quella comunità perché è un circolo anche questo vizioso grazie per le preghiere che fate per me perché tutti ne abbiamo bisogno Giuliana Cabanelli dice non tutti i sacerdoti sono uguali pochi sono veramente seri come mai? no non è vero non possiamo dire che pochi sono veramente seri che diciamo quello che dice la Madonna la Madonna a Meggiugori ha detto in un messaggio ce ne sono di buoni e di cattivi purtroppo i cattivi ci sono tant'è che li vediamo sui giornali e purtroppo questi cattivi che sono una minoranza rispetto ai buoni infangono tutti i buoni certo stiamo vivendo un tempo molto difficile in cui Satana sta tentando di far perdere la fede a molti allora il sacerdote deve rimanere ben fondato sia nella verità del Vangelo sia nell'autentico Magistero della Chiesa che è stato trasmesso per duemila anni chi si discosta da questo Magistero rischia di andare fuori strada e anche dal punto di vista morale tant'è che ricordo io un caso che poi per noi è stato uno scandalo un sacerdote molto rinomato e a un certo punto ha lasciato il sacerdozio ed è stato uno scandalo per tutti noi che eravamo seminaristi e qual è stata la causa probabilmente una sbagliata impostazione teologica andava dietro la cosiddetta teologia della liberazione e poi purtroppo si è liberato del sacerdozio che Dio abbia pietà dei sacerdoti che hanno abbandonato il sacerdozio perché vedranno quanto bene avrebbero potuto fare e non l'hanno fatto i peccati di omissioni possono essere molto gravi Anna Sarnataro perché sa perché sa che se lui non ci sopportasse noi tutti o ci dovrebbe distruggere e in ogni caso andremo tutti all'inferno quindi la pazienza di Dio è un qualcosa di infinito è come Dio stesso se Dio non avesse pazienza ci dovrebbe distruggere però purtroppo c'è un momento in cui come dice San Giovanni Paolo II in quel bellissimo testo credo che sia alzatevi andiamo a un certo punto Dio mette un limite al male la divina misericordia proprio mette un limite al male sto leggendo i vostri commenti cerco di di leggere i commenti che sono con il tema perché se no mi portate fuori tema con altri commenti ecco cerchiamo di rimanere sul tema perché tanto stiamo affrontando tanti temi veramente tantissime tematiche in queste catechesi attraverso questa testimonianza straordinaria quindi cerchiamo di affrontare volta per volta una tematica se no andiamo fuori strada Alessandra Donno dice che brutta cosa se mia figlia fosse incinta mai e poi mai le direi di abortire anche perché carissima Alessandra se lei dicesse a sua figlia di abortire per dire incorrerebbe nella scomunica tutti coloro che collaborano all'aborto incorrono nella scomunica cioè sono tagliati fuori dal corpo di Cristo sono fuori della chiesa quindi è una cosa seria questa quindi il peccato di aborto è un peccato gravissimo chiaramente esiste anche la Divina Misericordia quindi chi ha compiuto questo tipo di peccato e purtroppo alcune di voi so che lo hanno compiuto e si abbandoni a Dio e da da oggi in avanti preghino perché tante donne non compiano questo abomenevole delitto e si hanno la possibilità e consiglino diano la loro testimonianza e la loro esperienza negativa su questo aspetto e dicano con chiarezza che se fosse oggi non lo farebbero più Maria Verta dice sarebbe bello anche leggere e comprendere ciò che c'è scritto nella Bibbia e spiegata da un sacerdote carissima Maria io sto attualizzando il Vangelo e anche la Bibbia in questa testimonianza quindi come voi vedete vi cito spesso il Vangelo a memoria magari qualche frase non è proprio esatta proprio parola per parola ma il senso fondamentale sì francesco francesca 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 vengono fuori e quindi Satana e poi è un genitore capace di fare cose abominabili nei riguardi dei figli specialmente delle figlie e quella ferita se la porteranno per tutta la vita avranno una vita veramente marchiata da quella esperienza negativissima Anna Maria Matera dice Don Pietro quando aspettavo mia figlia anni fa il medico mi disse che dovevo abortire per mia figlia non sarebbe perché mia figlia non sarebbe nata normale per le medicine che lui mi aveva fatto prendere e io ho rifatto le analisi e mi sono affidata a Dio ma mai avrei abortito mia figlia è nata ed è normale per quel medico avrei dovuto abortire io ho avuto fiducia in Dio bravissima carissima Anna Maria purtroppo tante donne non hanno fatto così e hanno uccisi i loro bambini mentre diverse mamme che hanno avuto il coraggio di far nascere i bambini poi hanno visto la misericordia di Dio perché i bambini sono nati sanissimi Maria Enza dice che tristezza non si possono sentire certe cose preghiamo affinché queste persone prendano coscienza di quello che fanno e si possano convertire Adriana Costa dice tanti sacerdoti mi hanno negato di potergli baciare la mano gli ho detto che la baciamo a lui come uomo non la baciamo che la baciamo ma come consacrato di Dio cioè che non la baciamo a lui come uomo ma come consacrato di Dio proprio così carissima Adriana Tinarea dice quando si è nel peccato è come avere gli occhi chiusi non ci si accorge di sbagliare e solo quando ti converti e apri gli occhi ti rendi conto di quanto male hai fatto e ti fai schifo è proprio così carissima Tina però è vero anche che noi abbiamo la possibilità di avere gli occhi aperti perché fin da bambini andiamo al catechismo e ci viene insegnato il giusto comportamento e anche in famiglia tante volte abbiamo dei buoni consigli soltanto che poi ci lasciamo traviare ed è questa la nostra responsabilità dalle compagnie come ha fatto Gloria Polo dall'ambiente che frequentiamo dalla mentalità comune e così dai mass media però Gloria Polo aveva avuto una mamma quasi santa e quindi doveva ascoltare i consigli della mamma che la voleva tanto bene e l'aveva insegnato da piccolissima a comportarsi da ragazza cristiana cattolica però lei non l'ha fatto a un certo punto ha preferito il male e infatti se ne assume la responsabilità rino speranze dice caro don quanta sporcizia ma a volte si fa fatica a seguirla perché si vive quello che dice non da lontano ma a volte i protagonisti siamo noi qui che ci scandalizziamo sarebbe sarebbe corretto abbandonare ma la misericordia sarebbe offesa ma continuare nella carità vede proprio stamano un amico mi chiama e mi ha detto mia moglie mi ha inguaiato deve abortire gli ho detto no porta avanti questa gravidanza è un dono di Dio ma l'ho detto solo dieci volte carissimo rino allora segua da vicino questa persona e faccia di tutto affinché questo bambino non sia ucciso anzi pregheremo anche per questa intenzione lo chiedo a tutti voi che siete qui in diretta preghiamo per questa donna perché non uccide il suo bambino e mi è stato detto anche di un'altra ragazza che ha intenzione di abortire venerdì quindi vi raccomando preghiamo perché questi aborti non si facciano Rosalo piccolo dice le mie figlie occivano erano libere ma sapevano come comportarsi ma essono permesse di giudicare chi era meno bello di loro avevano sani valori ecco se si educano bene i ragazzi tante volte riescono a resistere al male che c'è intorno a loro però bisogna seguirli veramente da vicino oggi i genitori devono stare con gli occhi molto aperti sui propri figli e seguirli da vicino Anastasia Aguarino dice le mamme devono trasmettere i valori a una figlia insegnare di avere rispetto del proprio corpo e di non mettere in evidenza ecco anche questo è importante invece le mamme cosa fanno oggi vestono le bambine piccolissime già a due tre anni in modo provocante quasi mezze nude così le bambine crescendo si abituano ad essere mezze nude per loro è normale andare in giro nude magari anche in chiesa venire mezze nude questo sono proprio le mamme che non fanno avere alle bambine il rispetto del loro corpo e quindi le rovinano perché poi quelle bambine diventano oggetto di desiderio soltanto sessuale da parte dei ragazzi e poi combinano pasticci magari arrivano persino all'aborto Rossi Fulvo dice che grande responsabilità lei padre Pietro Dio la benedica sempre illumini sempre il suo cammino grazie carissima Rossi ricambio la benedizione e invoco anche su di lei la luce di Dio sicuramente noi sacerdoti abbiamo una grandissima responsabilità perché Dio ci ha fatto un dono immenso dobbiamo fare di tutto per far sì che il popolo di Dio segua i comandamenti di Dio cammini nelle sue vie mette in pratica il Vangelo sforzandoci chiaramente per quello che riusciamo di farlo noi per primi perché prima dobbiamo dare l'esempio e poi dobbiamo cercare di insegnare però in ogni caso questa responsabilità è anche di ciascuno di voi perché se anche un sacerdote dovesse sbagliare non per questo siete giustificati nel sbagliare anche voi voi dovete seguire il Vangelo perché il sacerdote è un uomo e potrebbe anche sbagliare mentre il Vangelo non sbaglia Anna Sarnataro dice una mia amica voleva abortire e io mi sono sempre opposta ora quel bambino è diventato un gran bel ragazzo benissimo carissima Anna anche io ho avuto almeno due esperienze così e oggi sono un ragazzo e una ragazza Luisa Anna Simoni dice mia mamma si è fatta consigliare dal medico e ha abortito due figli poi si è ammalata di depressione ecco vediamo le conseguenze che sono sempre queste no? perché la depressione? perché c'è un senso di colpa così profondo nella mamma che ammazza il proprio bambino che non riesce a liberarsi e quindi cade in depressione io per paura che i dottori mi consigliava di abortire sono andata pochissimo ai controlli e mi sono solo affidata a Dio e ho avuto sei figli bene gloria a Dio e anche brava lei carissima Luisa Anna Stefano Bosselli dice caro don una domanda la recita del rosario può contribuire all'espiazione dei nostri peccati? sicuramente sì carissimo Stefano tant'è che noi confessori quasi sempre diamo come penitenza ai penitenti di recitare qualche preghiera quindi sicuramente il rosario può aiutare a scontare anche le conseguenze dei peccati bene allora ci sono tantissimi altri commenti però la nostra ora è passata abbondantemente sono le 23.23 concludiamo con un momento di preghiera grazie a tutti voi come sempre per la pazienza che avete avuto nell'ascoltare questa testimonianza e nell'ascoltare me nella spiegazione nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo amen padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male Ave o Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen gloria al padre e al figlio e allo spirito santo come era nel principio ora e sempre e nei secoli dei secoli amen angelo di Dio che sei il mio custode illumina custodisci reggi e governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste amen l'eterno riposo dono loro Signore esplenda ad essi la luce perpetua riposino in pace amen o glorioso San Michele Arcangelo principe delle milizie celesti difendici nella lotta sii il nostro aiuto contro le insidie e le malvagità del demonio e Dio lo domini supplichevoli te lo chiediamo e tu col divin potere incatena nell'inferno satene gli altri spiriti maligni che vanno vagando per il mondo a perdizione delle anime amen nostri santi protettori pregate per noi il Signore sia con voi vi benedica Dio onnipotente vi libera ogni male maleficio maledizione sortileggio incantesimo fattura legatura stragoneria invidia gelosia odio rancore malocchio ogni forma di male occulto dalle conseguenze delle messe nere vi dia pace serenità salute prosperità comunione fedeltà coniugale fecondità di vita vi faccia crescere nella fede nella speranza nella carità e in ogni virtù vi faccia aggiungere la gioia eterna del paradiso insieme con tutti i vostri cari nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo amen benediciamo il Signore rendiamo grazie a Dio estendo benedizione anche a tutti coloro che l'ascolteranno in seguito grazie a tutti